Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Ovviamente a un artista, quando si presenta, abbiamo ospite sicuramente un Marco Gesualdi, che è un artista che noi, e poi si sovina, si racconta la carriera dell'artista, perché chiaramente chi ascolta vorrebbe conoscere. E a questo fondo invece, indirettamente, se da quando hai iniziato ad oggi, come descriveresti Gesualdi da quando hai iniziato ad oggi, ma soprattutto oggi Gesualdi, chi è? Allora, cominciamo un po', ti rispondo un po' alla volta. Io ho cominciato negli anni Ottanta, giovanissimo, suonando New Wave. Suonavo con un gruppo che si chiamava 666, con il quale ho girato l'Italia, spesso in compagnia dei De Novo e degli Avion Travel, che eravamo compagni di cordata, infatti conosco molto bene tutti i componenti di questi gruppi e siamo ancora in contatto. Per cui nasco come musicista rock e ho partecipato a tante manifestazioni dell'epoca, come Sanremo Rock, DOC, la trasmissione di Renzo Arbori, che fu bellissima per tre giorni. Pensa che il giorno in cui partecipavamo noi c'era Chet Baker, per dirti insomma, era una trasmissione veramente innovativa e bellissima. E con questa formazione ho attraversato tutti gli anni Ottanta. Poi negli anni Novanta ho lavorato moltissimo con il teatro, come musicista, come arrangiatore e come didatta. E poi dalla fine degli anni Ottanta ad oggi mi dedico, parallelamente alla carriera di didatta, a una carriera di produzione musicale, come musicista. Io mi reputo un cantautore strumentale, nel senso a me piace molto la musica strumentale, però spuntano sempre delle canzoni. Per cui le musiche strumentali per me sono sempre canzoni. Poi quando ci sono le canzoni con i testi, sono delle canzoni vere e proprie. E sto pubblicando vari dischi che riescono sempre a incontrare un buon favore della critica e degli ascoltatori che riesco a coinvolgere. Per esempio, l'ultimo disco che ho pubblicato, risale a un paio anni fa, è questo qua, si chiama Now, che è un acronimo di Naples Open World. Se lo andare a cercare sui social oppure sulle piattaforme, ci sono diversi brani che tra l'altro hanno avuto anche parecchi streaming. E' questo insomma. Oggi mi accingo a pubblicare un nuovo disco che uscirà dopo l'estate e ora in anteprima sto presentando un singolo, che è in metà in spagnolo e in metà in napoletano, che si chiama Scetate, che tu penso abbia ascoltato. Sì, sicuramente l'abbiamo ascoltato, ci è piaciuto. Grazie. E questo è un brano nato durante il lockdown. Nato durante il lockdown, in un momento di chiusura, intanto ho voluto cercare la collaborazione dei musicisti con i quali collaboro. Ho voluto cercare una collaborazione più fattiva. Cioè, in un momento di chiusura ho voluto incontrarli anche creativamente. Per cui, una volta scritta la musica, ho coinvolto questo Rossella, una delle due cantanti, Rossella Rizzo, insieme a Simone Rabeau, nella costruzione delle melodie. Ho coinvolto i musicisti, Giosi Cincotti, Enrico Del Gaudio e Guido Russo nell'arrangiamento. E questa cosa ci ha tenuti vivi e uniti durante questo periodo in cui le chat erano sempre vive, un po' per tutti. E volerli coinvolgere, in qualche modo, cioè l'essere coinvolti, l'essere uniti, anche dal punto di vista compositivo, ci ha in qualche modo fatto sentire un po' più vicini, un po' più uniti. Quindi sono voluto un po' uscire dal mio, tra virgolette, ego compositivo, quello di voler fare tutto, e mi ho detto, va, dividiamo, vediamo anche che direzione prendiamo collaborando insieme. La direzione è molto carina. Per il testo c'avevo questa idea in spagnolo, ho coinvolto un caro amico che si chiama Alessandro Facella, che è molto bravo, un gran conoscitore della lingua, musicista anche lui. E poi la parte di Napoletano, scritta insieme a Simone Rabeau, che è una delle due vocalists con le quali collaboro. Tra l'altro lei è la vocalist del 99 Posse, non so se già la conoscete, ma è un vero talento, sì. Bravissima, bellissima, ha una bella presenza, è una grandissima artista. Per cui, avendo la fortuna di avere questi bei collaboratori, ci siamo divertiti molto a tirare fuori questo singolo. Il 15 uscire il video, tra l'altro è molto divertente, ci siamo divertiti molto nel farlo. Per cui la musica, vedi, dici, perché tu fai musica? La musica è un'esigenza. Per il momento in cui non la fai, ti, perlomeno, ho la sensazione di spegne. Per cui invece facendola, si riavvia una serie di processi positivi dentro, di comunicazione, di empatia, di condivisione, che ci fanno andare avanti bene, anche in periodi un po' più scuri. Questo brano, in realtà, possiamo dire che è un minimal, perché è chitarra e voce, ma una chitarra non pesante, cioè una chitarra molto delicata, leggera, e poi è un genere, comunque, ma da stile... Eh, sì, è chitarra armonica, e poi ha un senso più stile brasiliano, un po' più samba... Sì, infatti l'hai colto bene. C'ha una venatura brasiliana, ma c'ha anche una venatura gipsy, un po' spagnola, un po' tra il flamenco e il fado, che sono un po' le mie passioni nascoste, perché quando vengono fuori queste cose, che vengono fuori così spontaneamente, cioè non è che sono pensate, pensavo a questo brano, a questa voglia, a questo tipo di energia, scavando nella mia miniera emozionale, così la chiamo io, quel luogo dove tu vai a tirar fuori le cose, che è sempre un grandissimo mistero, e poi ti rendi punto, va, è uscito fuori questa cosa, come è venuta? E quella è una miniera emozionale, questo contenitore che o è dentro di noi, o intorno a noi, dove si riesce a tirar fuori le cosine, diciamo, gradevoli, ce la mettiamo tutta, affinché sia così. Passare, tu hai detto a Summer Raim Rock, tanti, comunque hai passato a Band, dove la musica rock aveva risalto, poi passare a uno strumento che è la chitarra classica, acustica, dove la musica, in realtà il suono è preciso, bello, pulito, delicato in alcuni casi, o arruenta in alcuni casi, però un po' passare dall'una all'altra un pochettino non è stato, cioè, è stato forse una conseguenza nel tempo? Ma sicuramente, diciamo che sono passati anche un po' di anni, per cui i periodi della New Wave era un momento generazionale che nasceva dal punk, per cui c'era molto gesto, c'era molta voglia di raccogliere una nuova energia, di raccontare di nuovo delle storie sotto una veste nuova, e chiudere un ciclo che il Progressive aveva chiuso pochi anni prima, il suo, diciamo così, insomma, per cui c'era voglia di cose semplici, forti ed energiche, cioè la New Wave nasce il post-punk, dopo i clash, dopo tutto quel filone londinese così, per cui questa nuova voglia di fare musica in maniera semplice, diretta e forte era principalmente un gesto, era un segnale, e poi eravamo giovani, avevo vent'anni all'epoca, per cui c'era uno spirito che mi portava in quella direzione. Ora sono un po' più grandicello, ho passato un po' di anni, e col tempo tu cresci musicalmente, nel frattempo questo mi sono dicromato in composizione, per cui cresci anche armonicamente, mi sono appassionato alle armonie jazz, mi sono appassionato a delle cose che prima ascoltavo, però non capivo del tutto e manco praticavo tanto, cioè le ho imparate man mano suonando i vari contesti che mi hanno arricchito e fatto conoscere le cose. Cioè, tu senti questo brano che tu l'hai definito così, penso che quando suoniamo dal vivo, molto spesso lasciamo le strutture dei brani aperti, cioè ci piace improvvisare, ci piace creare anche l'interplay, quasi fosse un concerto di musica jazz, anche se la chiamiamo world, insomma, perché è una fusione tra musica etnica, musica acustica, armonie particolari, e puoi trovarci tante cose dentro. Infatti, la prossima domanda era il fatto che quando uno suona dal vivo, ovviamente il brano, è chiaro che il brano è quello, inizia e deve finire in un modo, però a volte suonando davanti a un pubblico, che è diverso, perché ogni sera è diverso, prende un pochettino quella vita sua che si trasforma in momenti particolari, un piccolo accenno, un piccolo assolo, un piccolo... E evolve, per conto suo, vive di vita della propria. Sì, è proprio così, è proprio il mio approccio alla musica, ma anche alla vita. Io credo molto nell'ascolto e nell'entrare in relazione, in empatia con chi condivido il palco, con chi condivido la mia giornata, ma anche col pubblico. Per cui certe volte la scaletta la facciamo un attimino prima, scegliendo i brani che secondo noi, secondo me, in quella situazione stanno un po' più nell'aria. E per cui è anche bello lasciare aperte alcune strutture per poter improvvisare e creare delle cose nuove. A differenza... Cioè, vedi, con tutto rispetto, la musica pop è bellissima, cioè le canzoni sono dei piccoli miracoli che ti raccontano e ti portano a che parte. Però recitare la stessa cosa ogni sera personalmente mi annoia. Preferisco che ogni sera diventi una cosa nuova che abbia... non una cosa nuova del tutto, ma che abbia quel vestito che però si rinnova di sera in sera con delle trovate che cominciano a divertirci prima di tutto a noi. E quando vediamo che ci divertiamo, ci sorridiamo e si arriva dell'interplay, questa cosa arriva pure a chi sta di fronte. Allora avviene quella cosa che noi chiamiamo la festa, insomma. Raggiungiamo il nostro scopo. Dopo tanto tempo che suoni, hai suonato in tanti palchi, qual è l'emozione che ancora persiste quando davanti hai un pubblico che inizialmente è silencioso, ma poi a volte quel silenzio parla perché emana quella energia, ma poi canta, si emoziona e ti rimanda quell'energia sul palco che poi tu trasformi in musica. Qual è la sensazione? Ma guarda, questa è una cosa bellissima. La restituzione è un momento bellissimo. Io lo avverto sia durante il concerto ma anche il giorno dopo. Mi rimane anche il giorno dopo, anche per un po' di tempo. E questa cosa mi dà, molta forza mi dà anche un'idea perché c'è un circolo di energia che crea e ti aiuta a creare delle cose nuove. Per cui c'è un'emozione, però l'emozione è un'emozione viva che non è più paura, ormai insomma quella fase si è superata, ma c'è la sensazione di riuscire a creare una comunicazione reale. E quando tu conosci una bella persona, entri in empatia e comunichi, senza sovrastrutture, senza secondi fini, senza altro, stai raccontandosi. E poi la comunicazione, ricordiamoci, è basata sulla reciprocità. Per cui a me non piace, per esempio, suonare a volumi altissimi. Non mi piace stordire il palco, estordire la gente. Mi piace creare le dinamiche, non mi piace sentire la sala, mi piace che il volume sia creato all'interno della sala. Questa è un'altra cosa che pure prende in prestito dal jazz, cioè quello di esserci tutti insieme. E questa cosa quindi genera delle vibrazioni belle, insomma. E come è cambiato l'approccio del pubblico? Da quando prendi, sei passato da diversi generi, soprattutto inizialmente da giovani, ad oggi, secondo te è cambiato l'approccio del pubblico, dei cosiddetti fan della musica, anche e soprattutto nell'ascolto della stessa. Ma guarda, secondo me il pubblico oggi si è abbastanza settorializzato. Cioè, trovi il pubblico che va a vedere un jazz, trovi il pubblico che va a ascoltare il giù bernieri, che poi è quasi simile, trovi il pubblico che va all'attributo di Vasco, o a vedere Vasco, trovi il pubblico, per cui il pubblico fa delle scelte. Prima forse c'era un pubblico un po' più generico, un po' più, è anche forse un po' più vasto. Ora invece ognuno cerca di fare le sue scelte perché c'è molta offerta e poi il pubblico anche in linea di massima lo trova anche cresciuto perché per fortuna anche con l'avvento del web c'è la possibilità di capire, ascoltare, sapere in anticipo cosa va ad ascoltare. E questa per esempio già è una bella cosa. Per esempio, io mi piace ancora comprare dischi, però ogni tanto quando vedo su un giornale, su una rivista il nome di un musicista sperimentale new yorkese che fa una cosa particolare, mi piace andarmi a ascoltare un brano, due, per capire quello che fa e poi cercarmi il suo disco e ascoltarmelo dove voglio, come voglio, anche per leggere, ma insomma il disco ha ancora per me un rapporto fisico importante. Per cui spesso chi ti viene a sentire un po' già ti conosce e poi quando a fine concerto ti vengono a chiedere il disco per portarti un po' con l'oro ma anche per sostenerti perché ormai la musica è così, è su live. Questa cosa è un bel segno di gratitudine. E la sensazione che quando ti presentano quel film di davanti e ti chiedono anche l'autografo ormai penso che vai se sei scafato su questa cosa. Sì, è un gioco, è un gioco, l'autografo, la fotografia, il disco, fa tutto parte di un gioco, ma è anche un bel gioco. Ma soprattutto è bello quando questa cosa avviene dopo una bella performance, dopo un bel set, dove c'è stata una bella comunicazione. Questa cosa viaggia su un bel concerto è un momento bellissimo. E invece nascono prima le parole nasce prima la musica oppure nascono insieme in questo caso del tuo stile. Ma guarda, questa è una domanda storica ed è un classico ed è una bellissima domanda. non c'è una regola perché può nascere a volte capito ti viene in mente una parola e la metti là nel tuo in angolino nell'agenda che è una piccola visione oppure ti viene in mente una frasetta e la registri sul telefonino ogni volta è una la ricetta è una ricetta nuova perché ogni volta è un miracolo che si compie in modo inedito perlomeno per me ma penso che per tanti perché non credo di essere un impiegato della musica è tantomeno uno che scrive su commissione oppure decide ora scrivo un brano ora scrivo una canzone no per me la scrittura è un momento quasi magico all'improvviso quasi come se fosse una piccola meditazione da nulla esce una frasetta me la appunto me la registro poi me la ascolto con calma se riesce ancora ad emozionarmi la sviluppo può essere una parola può essere anche un giro di accordi oppure una melodia e a volte quando vado a vedere il mio telefonino sul mio registratore portatile la mia stazione di registrazione ascolto delle cose e poi sono diventate delle canzoni questa cosa mi emoziona perché poi dopo dentro poi ci metti anche altro ci metti il tempo che è passato da quel primo momento in cui c'è stato il gettito e tutte le cose che hai vissuto oppure l'elaborazione perché poi c'è un'idea c'è un frammento ma poi c'è lo sviluppo e per cui lo sviluppo fa parte proprio anche di un pensiero ora vado in questa direzione in quest'altra sempre con leggerezza visto che hai la chitarra sottomano se dovessi partire con un brano in realtà che non è ancora creato e con quale accordo partiresti? facciamo un esempio però a volte le dita ti portano ti portano a cercare le situazioni per cui a volte cerco ma cerco dentro lo strumento ma anche dentro di me e poi nasce una piccola melodia mettesse fuori una cosina dai per cui è così è tutta una ricerca per cui a volte dipende dai momenti momenti in cui vedi un po' più lontano sono accordi aperti settimana maggiore a volte invece c'è un momento un po' più più tosti più tesi sta più cose un po' più così per cui vedi la musica è stato d'animo è la nota insieme al ritmo caroleano delle situazioni e così nascono le canzoni tra le tante collaborazioni soprattutto con tanti musicisti che hai suonato tante band qual è quella che in realtà poi ti è rimasta un po' quel momento un po' particolare che ti è rimasto nel cuore perché ti ha dato così tante emozioni in realtà poi che nel tempo ancora la porti dietro ma guarda io ti posso raccontare una cosa con la band a metà degli anni per quasi tre anni ho frequentato lo studio di Pino Daniele a Formia e ti racconto come è nata questa cosa noi partecipiamo a un film che si chiama Blues Metropolitano in cui c'erano altri gruppi c'era Don Esposito e tutta l'entourage di Pino registrammo il brano della colma sonora anzi due brani gli studi di Formia quando ci salutammo Pino disse ragazzi mi andiamo a trovare io ho intenzione di fare un'etichetta di fare delle cose l'estate successiva passai per Formia all'andare a trovare e così lui ci propose di fare delle cose e per cui evidentemente per periodi che duravano dai 10 15 giorni per due settimane ma a volte anche 20 giorni con cadenza un mese sì un mese no per due anni e mezzo barra tre abbiamo frequentato questo studio e abbiamo posso dire di aver fatto da ragazzino musica di insieme con un grande maestro perché sono stato in studio con lui e ho avuto l'opportunità di che so la mattina mi svegliavo presto alle 9 scendevo giù e lo trovavo per studiare e più di una volta abbiamo suonicchiato insieme ci prendevo la chitarra mettevo gli accordi e lui improvvisava siamo stati a pranzo insieme siamo stati in studio insieme abbiamo arrangiato dei brani nostri lui ci ha dato le indicazioni ed è stato un maestro di musica importante perché mi sono reso conto del rigore che bisogna avere in musica per ottenere i risultati tutto quello che lui ha creato nasce da una grande conoscenza da un grosso impegno soprattutto da uno studio quindi questo esempio questa frequentazione mi ha dato tanto e me la porto ancora dentro cioè mi ricordo delle spiegazioni armonie le spiegazioni sul tempo aver ascoltato in anteprima dei suoi messaggi ma aver conosciuto anche guarda non lo dico per vantare però posso dire che io ho cominciato a frequentare lo studio quando Pino aveva finito Ferry Boat per cui ascoltammo in anteprima i messaggi del disco e poi ci invitò in alcune date del tour nei camerini per cui probabilmente ho avuto la fortuna di stringere la mano a Steve Ved per dirti che è un gigante della batteria e chiaramente essendo diciamo avendo il pass essendo dell'enturaggio di Pino lui pensava che noi fossimo dei prodigi o tanto meno dei coetanei e ci vedeva delle cose tipo ho pensato il bello il concetto è piaciuto ci trattava quasi alla pare insomma e questa cosa ci gratificava non poco e per cui vedere al lavoro ma anche Alfredo Golino ma anche Rino Zurzo il grande povero Rino Zurzo con il quale siamo rimasti in amicizia tanti anni Tullio con il quale abbiamo fatto anche un po' di promozione televisiva per cui vedere l'esempio dei grandi questa cosa ti stimola ma soprattutto ti aiuta perché vedi dietro un musicista affermato cosa veramente lo ha portato ad ottenere risultati e questa cosa ci ha fatto fare delle scelte ognuno di nuovo insomma le cose belle di quel periodo noi abbiamo fatto l'apertura al concerto del Level 42 a Tenda Striscia a Roma che fu una cosa bellissima pezza sono davanti a 7000 persone Pino ci disse ragazzi fatela questa cosa ce l'ha proposto un'agenzia di fare questa pittura al concerto e Pino ci fece venire una corista una ragazza di colore che era un'amica sua come corista per darci una mano sia sui cori ma anche come impatto visivo organizzavamo questa cosa quando saremmo sul palco noi eravamo emozionatissimi perché questi qua del Tenda Striscia 7000 persone appena uscivano credevano che noi fossimo del Fortitude per cui c'è fu un'ondata proprio di entusiasmo quando cominciamo a sonare a cantare in italiano rimase un attimo così però dopo due minuti li prendemmo e facevamo questo 20 minuti serratissimo e alla fine la portammo a casa ma veramente niente male quindi queste cose ti rimangono perché sono belle esperienze Simone Camerini con Mark Hing insomma che poi è l'ultimo particolarista perché tanto di queste cose fanno parte poi crea una storia che ti porti dentro ti diverti a rileggerla ogni tanto invece invece tu hai citato appunto Doc che in realtà poi ha anche delle videocassette di Doc ma cosa è cambiato di quel genere di spettacolo televisivo dove si parlava di musica e si raccontava la musica e si rieva la musica oggi che ci sono questi talent dove la musica oltre allo spettacolo un poettino viene consigliata è un modo per far crescere i giovani oppure in realtà sono periodi che si utilizzano questi cantanti per un periodo e poi vengono lasciati abbandonati io partiamo da Doc Doc era una trasmissione rivoluzionaria perché Renzo Arbore è stato uno che ha rivoluzionato la televisione per cui in un momento buono è riuscito ad avere dei budget per portare in televisione sia i gruppi emergenti ma ha portato io grazie a Doc ho conosciuto penso Caetano Veloso cioè quando lo vedi a metà degli anni 80 gli dici caspita non immaginavo oppure ho visto per la prima volta in televisione Pat Metini ma dei grossissimi nomi per cui ha fatto un'operazione culturale enorme ha avuto la possibilità di farlo ma soprattutto ha avuto la volontà di farlo in studio c'era Gaetano Ria che era il fonico uno dei fonici più importanti d'Italia che ha fatto i rischi dell'APFM di venditti di tantissimi insomma oltre a Gio Gio Telesforo che oltre a essere un grandissimo musicista era un grandissimo conoscitore di musica per cui c'era un amore per la musica nel fare una cosa sana e bella il talent ora è la dimensione dei nostri giorni è una dimensione un pochettino più edonistica dove c'è un po' più competizione dove c'è questa logica del giudizio che io assolutamente non voglio giudicare è il risultato dei nostri tempi a me non prende tantissimo infatti non è che me li vado tanto a vedere però quella volta che mi capita che a casa ci si passa avanti vedo anche tanta gente veramente brava e per cui partecipare può essere un'occasione cioè alla fine è tutto un gioco come avere la fortuna di andare al festival di Sanremo o avere la fortuna di fare delle cose per cui se tu stai al gioco probabilmente riesci anche a fare questo saltino che ti fa fare un giocotto grande per cui non partecipare per principio mi sembra una cosa un po' non lo so ripeto a me non prende però ho visto anche delle cose molto belle per cui è una cosa che forse tutto sommato è anche giusto che ci sia però una trasmissione come docco mi manca come mi manca la musica dal vivo nel rai cioè nei fini anni 70 quando io era ragazzino gli anni 80 gli anni 90 si vedevano dei bei concerti ora sono qualcosa tutte che teche dai però più di questo produzioni bene non se le fanno più e forse perché manca un pochettino che i costi sono forse in alcuni casi di concerti sì però vedi alla fine non so però ti assicuro sono certe trasmissioni per come le organizzano hanno dei costi altissimi per cui non credo sia una questione di costi credo che sia una questione di di chi li organizzano credo che persone come Arbore non ce ne siano più tante questa è la verità cioè Arbore ha avuto la capacità di mettere a disposizione un periodo della sua vita la propria fama il proprio successo per fare delle cose e questa cosa questo marito gli va dato insomma perché lui nel momento in cui era all'apice della carriera aveva fatto dei film di successo trasmissioni radiofoniche statosferiche trasmissioni televisive bellissime come l'altra domenica se tu ricordi insomma qualcosa per cui ha messo a disposizione il suo carisma all'interno della RAI l'hanno ascoltato e quindi ha dato spazio a grossi nomi per farsi anche per promuovere la tournée per chi veniva in Italia ma anche gruppi emergenti cioè là suonano noi suonano i De Novo suonano gli Alontrave suonano e anche altre band c'era sempre il gruppo emergente e noi mi ricordo che stiamo tre giorni e suonammo andavamo in onda l'ora di pranzo e poi replica la sera e la sera andavamo a suonare in un locale a Roma e veniva un sacco di gente perché ci avevano visto per cui capito aveva funzionato questa comunicazione quando torniamo a Napoli poi facciamo altre serate perché la televisione è un mezzo straordinario lo ero all'epoca e probabilmente lo è ancora tutt'oggi per cui insomma un ragazzo che va a un tale visto che questo c'è ma sì gioca gioca essere troppo rigi semmo non porta a nessuna parte tornei dal vivo ci saranno? sì sì abbiamo un po' di serate un po' di date che sono in aggiornamento saremo un po' in Puglia quest'estate qualcosina in Calabria e poi a ottobre presenteremo il disco e vediamo un pochettino dove riusciamo ad andare sì vi saluto a tutti è stato un piacere parlare con voi andate a cercare la musica su Spotify ma anche su YouTube vedere i video un grosso abbraccio a tutti da Napoli ciao Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro a come ciao a iscriamo a Grazie a tutti.